Qualche mese fa, al primo diffondersi della notizia, cittadini e residenti di Vazieri a Campobasso avevano impuntato i piedi contro la possibile installazione di un'antenna telecom alta 30 metri con sei ripetitori di telefonia mobile. Quegli stessi cittadini, alcuni singolarmente ed altri raggruppati in un comitato, avevano subito denunciato la telecom per fermare l'installazione dell'antenna, ritenuta pericolosa per la salute umana, in un quartiere densamente abitato e in continua crescita. Proteste a nostro parere giuste e legittime, hanno commentato oggi gli avvocati che difendono i cittadini. Ci sono due ricorsi pendenti, più appunto l'atto di intervento, c'è il ricorso di telecom contro l'atto di annullamento del comune di Campobasso, insomma è una situazione che anche a livello processuale si è abbastanza, diciamo ci sono state una serie di stratificazioni di ricorsi, interventi e quant'altro. Tutto quanto sarà deciso a marzo 2015, tuttavia ad oggi i lavori restano sospesi perché l'autorizzazione della telecom è stata annullata in autotutela dal comune di Campobasso e auspichiamo ovviamente che in una decisione di merito il TAR dia ovviamente ragione ai residenti che obiettivamente stanno vivendo una situazione di particolare disagio e di ansia rispetto ad un impianto di trasmissione che oggettivamente può essere anche pericoloso per la salute. I lavori per l'installazione dell'antenna al momento sono stati quindi sospesi grazie anche all'interessamento del comune di Campobasso. Per noi è un primo risultato positivo, hanno detto i difensori del comitato. Abbiamo già ottenuto dal TAR un provvedimento, una sospensiva in odita altra parte dei lavori di esecuzione dell'antenna perché è un'antenna di dimensioni rilevanti e che può causare un danno rilevante. Il comune poi è annullato in autotutela, oggi telecom ha fatto ricorso per tentare di ripartire con i lavori. Il tribunale tuttavia ha deciso che la questione sarà trattata nel merito a marzo. Penso che la questione sia sostanzialmente oramai definita e siamo comunque contenti, molto molto contenti del risultato ottenuto sia con la prima sospensiva che oggi e del fatto che se si farà, ma non penso si farà ormai più questa antenna, si farà solo dopo un approfondito esame delle conseguenze urbanistiche e sanitarie, quindi dell'impatto sulla popolazione. Verifica che non è stata fatta in precedenza.